Ciao amici di Men Wow, questa è una premessa al video che segue perché a distanza di una settimana vi posso dire come mi sono trovato con il nuovo materasso Evergreen Web acquistato in questo caso dal sito ufficiale come vi dicevo al prezzo di 135 euro con un cuscino in omaggio nel video che segue mi ero fermato molto alle apparenze del materasso dicendovi che comunque mi dava molto di commerciale, comunque di non altissima qualità e così via, però devo dire che a distanza di una settimana dopo averlo provato, quindi dopo averci dormito ho rivalutato il materasso considerandolo che per quella cifra di 135 euro secondo me è un rapporto qualità prezzo eccezionale perché il materasso è molto comodo, si comporta bene mi dà sollievo, mi fa dormire benissimo e quindi non posso che di tenermi soddisfatto e quindi rivalutare quello che vi avevo detto che essendo troppo economico magari non fosse buono beh in questo caso innanzitutto vi consiglio sempre di provarli i materassi sempre prima di acquistarli, però se come in questo caso io mi sono trovato ad aver urgente bisogno del materasso mi sono solo attenuto alle recensioni delle altre persone devo dire mi è andata bene, sono stato fortunato perché il materasso soddisfa le mie esigenze poi quando avete tempo oppure avete particolari tipi di patologie alla schiena o avete particolari esigenze che dovete soddisfare è ovvio che vi conviene andare sul posto, sul luogo di vendita del prodotto e misurare, provare il materasso per vedere se si adatta bene al vostro corpo e devo dire questo l'ho preso a scatola chiusa è un materasso semirigido, devo dire mantiene bene la rigidità nel corso dei giorni, di un paio di giorni è ritornato alla misura che era stata indicata dalla casa madre quindi 24 centimetri, 25 centimetri ma sono effettivi 24 centimetri e mezzo poco male perché è bel materasso con tanta sostanza per il prezzo pagato quindi è consigliato, è ottimo, ottimo materasso per 135 euro fate un affare e non vi spendete 500 euro previsti per un materasso singolo un po' più blasonato bene, godetevi il video dell'unboxing e a presto su Menuao, ciao! ciao amici di Menuao, benvenuti bene, anche oggi procediamo a un nuovo, immenso, grandissimo unboxing forse quello più voluminoso che abbia mai fatto guardate un po' che c'ho qui è Evergreen Web che cosa sarà mai? ve lo dico subito si tratta di un materasso singolo che arriva in questa confezione tutto bello arrotolato del peso di circa 15 litri vediamo un po' come riusciamo ad aprirlo ci servirà assolutamente il nostro coltellino vediamo un po' spacchettiamo tutto spacchettiamo tutto bene si apre lateralmente e vediamo un po' si tratta del materasso Evergreen Web tra i materassi più venduti e anche in questo caso meglio recensiti su Amazon e in questo caso però un attimo che lo tiriamo fuori eccolo qui è il nostro gigantesco materasso che fa tremare tutto questo catuttore bello gigantesco come vedete i materassi di nuova generazione vengono così portati tutti belli arrotolati in questa confezione sottovuoto dove abbiamo un materasso singolo dell'altezza di 25 cm 1,90 x 1,80 x 1,90 x 1,80 quindi sulla assolutamente standard con tutte le certificazioni il suo nome è Big Fashion e all'interno c'è anche addirittura un bello omaggio di un cuscino allora quali sono le caratteristiche tessuto a male elasticizzato impoltitura in fibra termica di poliestere allergenica lastra interna in poliuretano portanza sostenuta medinita in Italy sostegno ergonomico e questo è un cuscino con dispositivo medico e che altre caratteristiche lo freggiano di essere in water foam che è un nuovo materiale che caratterizzato dal fatto di essere piuttosto elastico traspirante rispetto al memory più traspirante e di nuova concezione e di essere anche leggerissimo per tutto tutte le varie caratteristiche che esso ha bene amici di Men Wow quindi adesso Men Wow lo aprirà e vi farà vedere un po' come come va sul letto a presto bene amici di Men Wow quindi abbiamo srotolato il letto il nostro evergreen web come vedete all'interno c'è un cuscino e il materasso adesso lo tiriamo fuori dalla confezione e si gonfia automaticamente come vedete il cuscino è stato posizionato qui tutto sotto vuoto bene amici di Men Wow abbiamo appena spacchettato il nostro prodottino e adesso si sta gonfiando e misuriremo l'altezza che è data di 25 cm al tatto il materasso comunque sembra di buona qualità si tratta sempre comunque di un prodotto commerciale molto commerciale non è di quelli blasonati però comunque per l'utilizzo che ne dovremmo fare vedremo un po' se assolverà alla sua funzione amici di Men Wow per quanto riguarda l'altezza siamo arrivati a 23 cm questo invece è il cuscino dato in omaggio in memory foam comunque letto ovviamente pagato 135 euro da 160 euro ovviamente non ci si poteva aspettare chissà che cosa però comunque è un letto che sembra abbastanza buono commerciale non è qualità top qualità eccelsa però comunque di battaglia per un uso piuttosto promiscuo tra virgolette di utilizzare di battaglia può andare bene allora conclusioni avete visto il materasso l'ho ordinato dal sito ufficiale quindi dalla casa madre del materasso perché ho potuto risparmiare circa una trentina di euro rispetto ad Amazon però tenete presente che Amazon mi garantisce un reso è un servizio di reso un servizio clienti eccezionale come ben sapene Amazon è il numero uno per quanto concerne queste o per i prodotti venduti e spediti da Amazon o ancora venduti da un rivenditore terzo ma spediti da Amazon lì potete soffrire di qualche garanzia in più anzi di una garanzia eccezionale infatti per esempio invece comprandolo dal sito web io non posso soffrire di questa garanzia perché qualora dovessi rispedire effettuare un reso del materasso che ho preso che ripeto non è chissà quale materasso perché rientra in una fascia di prezzo comunque molto economica però se dovesse eseguire il reso le spese del reso sono a mio carico con tutto l'aggravio costituito dal riavvolgere il materasso che è un compito abbastanza arduo e complicato quasi impossibile perché poi bisognerebbe anche metterlo sotto vuoto e rispedirlo a nostre spese è il peso del prodotto almeno di 15 kg e quindi arriveremmo a spendere più di 30 euro di spese di spedizione quindi in questo caso bisogna prenderlo a colpo sicuro consapevoli che poi il prodotto una volta preso è meglio tenerselo e utilizzarlo perché è complicato effettuare il reso bene amici di menu wow ovviamente se pretendete chissà quale materasso che abbia una qualità migliore per un suono migliore dovete puntare più in alto ma se avete un letto volete comprare un letto che sia utilizzabile per la vostra seconda casa per la vostra casa al mare o non lo so come rimedio per la casa la stanza degli ospiti optate per un materasso di questa di questo di questo livello perché comunque in ogni caso sono in grado di svolgere il loro dovere bene amici di menu wow memento audere sempre e a presto su menu wow ciao ciao